Questo programma è offerto da... Peccato che tu non abbia quattro ruote, altrimenti saresti più bella della mia Porsche. Nico Carminati Oggi è un giorno qualunque, ma provate a pensare se oggi fosse il vostro ultimo giorno. E beh, che tristezza. Sto di merda. Cosa fareste? Io farei una presigla musicale. DJ Spine nella parte di... Fatto, son tutto fatto. Un cilindro è uscito un ratto. Luca Alba nella parte di... Diventare miliardario Cambierebbe la mia vita Anche la mia... Ciao amici, ciao parenti Vi saluto tutti quanti Pippo Palmieri nella parte di... Viva la figa Viva la figa Porco Wender nella parte di... Penso solo a... Penso solo a... Penso solo a... Ivo Avido nella parte di... Se gli mancano i capelli Non si sente disperato Ma ma come lo odio Mi piace molto l'uomo pelato. Quei funghi. Nella parte di... Non sai non sono sano mai. Mai, mai. I miei organi sono marci e gonfi. Io tutta qua dentro il cielo. Maestro. Fabio Alisei nella parte di... Qualcuno era comunista. Che vedeva la Russia come una promessa. Sì. Il comunismo come il paradiso terrestre. E per chiudere la presigla musicale... Marco Mazzoli. Il portapenne di Radio 105. Nella parte di... Sono figlio di puttana e so fare il mio mestiere. Ehi! Faccio tanta grana con l'uso del sedere. Magari. Ad Hollywood so stato e nacci nei città. E di passerotti mi ho preso in quantità. Lo sento nascere... Beh, bel gruppetto dai. Lo sento crescere in me. Non male. Sembra il bandico all'estellaria. E come un brivido che... Non puoi comprendere. Ingoi maestro, ingoi, ingoi. Canti, canti. Rompere le regole. Ho freddo. Oltre ogni limite... Ti ucciderà. Ma non ti molla mai. Non ti molla mai. Non sento l'energia. E dopo un tardio ormai. Non ti molla mai. Non ti molla mai. E fa parte di te. Marco Mazzoli presenta... Welcome to the ZO... ZOB105 105 105 The ZO... Vai! Questo è lo ZOB105. Il programma più ascoltato in Italia. Buongiorno.